Stamattina in giunta regionale su mia proposta abbiamo approvato una delibera che prevede un impegno di 7 milioni di euro a favore di chi nella nostra regione volesse aprire una nuova attività e una nuova partita IVA. In questo senso ci sarà un bando il mese di settembre al quale potranno partecipare tutti coloro che sono interessati a questo tipo di attività. Abbiamo portato avanti questa scelta perché gli anni scorsi ci sono state attività similari anche lo scorso anno ci sono stati diversi bandi sempre da me portati avanti e proposti che sono andati tutti a buon fine. Ci sono molte attività che hanno preso corpo in questi mesi proprio grazie a questo contributo quindi lo vogliamo riproporre. Non c'è un limite di età cioè chiunque tra i 18 e i 65 anni vorrà porre un proprio progetto di nuova iniziativa, di nuova attività con l'apertura di una nuova partita IVA potrà accedere a questo bando. Ovviamente saranno valutati per sostenibilità, per credibilità della proposta e poi ci sono alcuni altri criteri che danno un minimo di vantaggio a chi è che ha magari una disabilità o a chi risiede nell'entroterra nei cosiddetti borghi storici in modo da incentivare anche proprio le attività nei luoghi meno abitati, più lontano dalle città. La novità di quest'anno è che apriamo questo bando anche a chi è residente all'estero ma è marchigiano iscritto all'Aire cioè è ancora diciamo così cittadino anche della nostra regione in modo da stimolare anche magari qualche rientro di nostri concittadini che qualche anno fa magari sono recati all'estero per questioni di lavoro e oggi sono interessati ad aprire una propria partita IVA. Quindi è un modo per stimolare la nostra economia, del resto le marche storicamente sono la regione delle piccole e medie imprese quindi c'è un'attività diffusa di imprenditorialità nella nostra società e secondo me questo stimolo può essere molto incoraggiante per proprio riprendere la nostra storicità, la nostra cultura storica tipica della medie impresa. Il contributo di fatto è previsto in 20.000 euro per coloro che ripeto si aggiudicheranno questo bando con una proposta credibile e sostenibile e poi chiaramente dovranno dimostrare che questi 20.000 euro hanno sì portato avanti una loro attività che dopo alcuni periodi, i primi due anni, siano ancora in auge ovviamente non possono iniziare e poi chiudersi. È una bella iniziativa che verrà riproposta quindi anche quest'anno sulla scorta del volandamento degli anni passati.